L'Inter pareggia 1-1 contro la Salernitana, partita che i neroazzurri hanno in mano nel primo tempo, creano tanto, sprecano e nel finale un tiro cross di Candreva, tanto fortunoso quanto involontario, finisce alle spalle di Onana per il pareggio. In tutto questo ovviamente se sbagli tanti gol, alla fine rischi, sbagliando tanti gol, alla fine lasci il risultato aperto, alla fine rischi, però come al solito ci sono tante accuse anche nei confronti dell'allenatore perché ci sono alcuni cambi che sono veramente incomprensibili e la squadra pian piano come al suo solito diventa picra, diventa superficiale, diventa lenta nel muovere il pallone e il risultato è che l'Inter è alla sesta partita in Serie A senza vincere. Le pagelle, partiamo da Onana, a Onana diamo 5, in realtà gioca una buona partita, da capire e ricapire se avrebbe potuto fare qualcosa di più sul gol subito, certo, da un pallone, da quella posizione ci si aspetta che un portiere di Serie A possa intervenire, anche se onestamente è una parabola incredibilmente strana. La difesa, devrai 5 e mezzo perché nel finale troppe volte si perde il diretto avversario e l'Inter va a rischiare. Darmian prende un 6 e mezzo, sempre buona la sua partita come a Cerbi. Sulle fasce, Gossens 7, il migliore in campo, forse è per questo che Inzaghi lo sostituisce perché è uno dei migliori, segna ma non solo il gol, finalmente il Gossens è tornato a dei livelli un po', come ce lo ricordavamo a Bergamo, uno dei migliori se non il migliore in campo. Dall'altra parte Dumfries 5, spesso spaesato, qualche errore di troppo, insomma, la solita confusione fatta dall'olandese. In mezzo al campo Aslani 6 e mezzo, non era facile per lui titolare dal primo minuto dopo tantissimo tempo, gioca un buon match, inspiegabile, veramente inspiegabile la sua sostituzione. Al suo posto entra un Brozo, che sappiamo Brozovic in questo periodo non essere al meglio e il risultato è che cambia l'inerzia e cambia il centrocampo neroazzurro. Barella prende 6, colpisce un palo, non un partito entusiasmante ma comunque il suo lo fa, Mkhitaryan prende 6 e mezzo e poi andiamo ai tassi dolenti. Davanti Correa 5, poco, tanto movimento ma poi in sostanza veramente pochissimo, come sempre, anche qui perché da titolare non lo scopriremo mai. Lukaku prende 5 perché sbaglia un gol da 3, però allo stesso tempo è suo l'assist, la spizzata che poi porta il gol di Gossens. Certo ragazzi che quando un giocatore come Lukaku sbaglia quel gol lì non si può far altro che dare 5, almeno. E quindi è chiaro che l'Inter davanti sono tutte insufficienze, Lautaro entra e prende 5 perché anche lui... Grazie.